È una grande emozione comunque stare qui perché passare dalla primavera alla Serie B è sicuramente un grande passo però piano piano sto cercando di imparare dai miei compagni il più possibile perché hanno più esperienza di me cerco di rubare i piccoli trucchi del mestiere e cerco di dare sempre il massimo e fare quello che mi chiede sempre il mister No, noi sicuramente speriamo di fare e vogliamo sicuramente fare un campionato diverso da quello dello scorso anno Stiamo prendendo giocatori importanti come l'ultimo che è arrivato Rosina che è un grande giocatore e cerchiamo di dare il meglio partita dopo partita e arrivare sempre più in alto Guarda questo non lo so neanche io, mi hanno rassicurato durante l'anno che avrei firmato il mio primo contratto da professionista dopo anche delle panchine che avevo fatto con la Serie A però a fine anno è giunta la loro sentenza, hanno detto che per loro non dovevo firmare il contratto quindi ho preso la strada migliore per me, ma questo non lo so, spetta al mister Aspetta al mister dirlo, io mi metto a disposizione, do sempre il massimo, sono un ragazzo giovane e devo fare quello che mi chiede il mister faccio tutto al 100% quindi io lo spero poi se non mi verrà data l'opportunità sabato spero mi verrà data l'opportunità più avanti Sicuramente il mister penso abbia stima di me però io devo continuare su questo passo perché adagiandosi penso che c'è solo da perdere quindi voglio continuare su questo passo e dimostrargli che può contare su di me durante l'anno spero sicuramente di arrivare più in alto possibile con la squadra poi spero mi sia data l'opportunità di dimostrare al mister io ci metto il massimo impegno poi starà a lui vedere se potrà impegarmi più spesso o di meno